Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare di questo straordinario dipinto di Vincent Van Gogh. È un dipinto del 1885 che Van Gogh realizza nel villaggio di Nuenen presso i genitori. Lui si era ritirato lì per stare con loro ma anche per continuare a svolgere la sua attività di predicatore, una attività dove aveva ricevuto parecchie critiche, dove aveva fallito in un certo senso perché non gli avevano rinnovato la possibilità di continuare a svolgerla in alcune località del Belgio, dove lui era andato proprio per questo, perché si era rivelato troppo zelante, troppo appassionato rispetto a ciò che diceva e soprattutto perché partecipava con troppa virulenza ai precetti del Vangelo. E quindi di conseguenza ripiegò e tornò dal padre, dai genitori. Ma in quel periodo dipinse di quadri meravigliosi come questo, quadri che ritraggono dei paesaggi semplici, non ci sono case, non ci sono persone, tutto è quasi una sorta di immagine onirica. Vediamo un corso d'acqua che brilla alla luce del tramonto, in centro qui, poi vediamo la linea dell'orizzonte che separa in modo molto semplice il dipinto, da una parte più scura, dove c'è una sorta di boscaglia, alla parte invece più luminosa, dove appunto c'è il tramonto, sul quale spiccano alcuni alberi asimmetrici, che riempiono in parte lo spazio e il vuoto. Magog ha un occhio meraviglioso, riesce a cogliere la malinconia di questo paesaggio e riesce a farlo con una semplicità che però è complessità, perché riesce a cogliere tutti gli elementi della luce e dei colori. Usa colori scuri e usa colori chiari. Rappresenta il tramonto e contemporaneamente rappresenta anche, in qualche modo, l'oscurità del paesaggio stesso. Ci troviamo in una zona di campagna, in un periodo invernale, dove i colori bruniti, il marrone e il nero, sono molto forti, molto spiccati. E lui li coniuga in questa meravigliosa unione, che poi spicca con il corso d'acqua, da cui emergono questi riflessi straordinari. Van Gogh è un periodo in cui sta studiando, sta studiando i pittori dell'Aia, un cugino acquisito, gli sta insegnando, se si poteva insegnare a lui, insomma a dipingere, ma in qualche modo lo sta introducendo alla pittura d'olio, all'acquerello, ma Van Gogh è già molto avanti, riesce a modernizzare anche un paesaggio classico, portando degli elementi innovativi, stimolati anche dall'insegnamento di questo suo cugino, che apparteneva alla scuola dell'Aia, una scuola che aveva sede appunto all'Aia e che aveva come obiettivo quello di rappresentare i paesaggi, i personaggi, in modo estremamente realistico. Van Gogh lo fa, rappresenta il paesaggio con un realismo straordinario, ma va oltre, coglie l'essenza stessa del paesaggio utilizzando i colori in modo estremamente moderno. Se volete conoscere altre opere di Vincent Van Gogh dovete andare sul sito biografiaonline.it dove trovate altri straordinari dipinti.